Sui nidi arriva la replica delle consigliere del gruppo PD, Donella Mattesini e Valentina Vaccari. Dopo la precisazione del sindaco Ghinelli sui numeri, le consigliere tornano sulle cifre. Solo la fascia di età dai 24 ai 36 mesi non ha liste di attesa, dicono, mentre le altre presentano liste con carenze molto pesanti. Sappiamo bene che il calo delle nascite dipende da molti fattori, dalla precarietà del lavoro, dai problemi economici e dell'abitare, ma molto dipende anche dalla presenza di servizi sociali ed educativi a sostegno della genitorialità, dicono. Non basta certo l'annunciata apertura del nido in zona tortaia per coprire le gravi carenze che l'amministrazione ha nei confronti di bambini, adolescenti e famiglie, proseguono Mattesini e Vaccari. Dobbiamo anche sottolineare che la proposta dell'assessore Tanti di una cifra di circa 1000 euro da dare nel 2024 alle famiglie escluse dai servizi è una risposta assolutamente insufficiente. L'amministrazione comunale di Arezzo concludono Vaccari e Mattesini ad anni un avanzo di bilancio di circa un milione di euro, cifra scrivono che potrebbe essere spesa proprio in questo senso.